Lo dico o non lo dico? Ma sì lo dico, senza borra di smentita, quella che ho caricato qua dietro è indiscutibilmente una delle moto più belle al mondo è l'MV F4 in particolare, quest'oggi abbiamo con noi la Claudio, tiratura limitatissima che dopo vi svelerò la base di partenza è quella delle F4 RC ovvero reparto corse, 212 cavalli all'albero, 14.200 giri per lei poi si è fatto un grande lavoro non soltanto di estetica, abbiamo condotti di aspirazione e di scarico rivisti bicchierini valvole con trattamento di LC, pistoni monosegmento asso e poi frizione antisatellamento STM e forchette del cambio con trattamento di LC ma non è finita, all'avantreno troviamo l'impianto Brembo Stilema con dischi T-Drive con 320 mm di diametro la Forcella è un Hollings NX30 con steli da 43, mentre al posteriore troviamo un TTX36 è davvero bellissima nella sua estetica e nel suo design che è ancora attuale così dopo oltre 20 anni è ancora davvero incredibile nella sua bellezza, esemplari? Soltanto 100!